Dopo una bellissima serata con i giovani padani e il giuramento dei giovani del Piemonte siamo qui al Monviso per un interessante convegno su come si mangia, come si deve mangiare e mangiare il locale. Questa è un'opera che la Lega porta avanti anche per i ragazzi per dare maggiore lavoro alla nostra gente perché appunto se si sta meglio, se le nostre aziende riescono a produrre e sono più libere, sicuramente c'è più lavoro anche per i nostri giovani.